Ciao ragazzi, ben ritrovati a Ladri di Sigarette, la rubrica di Spazio Games dedicata al cinema. Io sono Fabri, io sono Loresca e oggi parliamo di Poltergeist. Mamma, c'è la cucina! Ah, davvero bene! Voglio vedere la mia camera! Va piano! Il proprietario è molto intenzionato a vendere. Vuoi vedere un trucco? Che tipo di trucco? Mamma, ci piace questa casa! Sembra che le cose vadano un po' meglio. Sta arrivando una tempesta. Non fare il cagnucolone, Griffin! Dopo essere stato licenziato, Sam Bowen e la sua famiglia si trasferiscono in una nuova casa. È lì che la piccola Madison farà la conoscenza di alcune oscure presenze. Diretto da Jill Keenan e prodotto da Sam Raimi, Poltergeist è il remake della pellicola originale del 1982, diretta da Toby Hooper e scritta da Steven Spielberg. Il film originale è diventato un vero e proprio cult del cinema horror degli anni Ottanta e viene ricordato con un certo brivido dai preadolescenti di allora. Anche il film del 2015 sembra rivolgersi allo stesso tipo di pubblico, quello preadolescenziale. Non è un film particolarmente spaventoso agli occhi di un adulto, ma è in grado di rievocare tutti quei temi che spaventano i ragazzini. Il buio, i morti, i fantasmi, i pagliacci, insomma tutti quei tropi del cinema horror che fanno paura ai bambini e da questo punto di vista ci riesce perfettamente. Ovviamente il regista Jill Keenan ha cercato di ripensare tutto in chiave moderna. Vi è per esempio la tematica del licenziamento assente nel primo film che ci riporta in qualche modo con i piedi per terra in un periodo di crisi economica mondiale e poi naturalmente vi è una forte presenza della tecnologia che è diventata digitale. Dall'analogico, dal tubo catodico della celebre scena del televisore del primo film si è passati a un televisore al plasma e alla forte presenza di telefonini, smartphone e tablet. Tra le tecnologie utilizzate ritroviamo sicuramente il drone che viene utilizzato per esplorare il mondo dell'aldilà. Ma non solo, abbiamo rilevatori GPS, telecamere termiche, tutti strumenti che solitamente vengono utilizzati dai fantomatici cacciatori di fantasmi di qualche reality show. E a tal proposito, al posto del medium che ritrovavamo nel film del 1982, qui abbiamo anche il conduttore di un noto reality show proprio dedicato ai fantasmi. Il tema della tecnologia presente in tutto il film come nell'originale dell'82 è qui addirittura rimarcato dalla sequenza iniziale in cui il bambino Griffin gioca su di un tablet, un videogioco sugli zoom, un videogioco inesistente. Forse non tutti sanno che l'originale del 1982 aveva avuto un suo videogioco, un tie-in per la console Color Computer, ma il gioco faceva piuttosto schifo. Se vi guardate i Walkthrough su YouTube scoprirete che si può finire in meno di tre minuti e sembra una brutta copia di Frogger. Anche se il videogioco tratto dal film è completamente dimenticabile, la pellicola originale, come abbiamo detto, è diventata un vero e proprio cult, tanto da essere utilizzata come oggetto di numerose parodie. Sono famosissime le parodie di serie televisive come i Simpson, i Griffin, South Park. E la battuta finale, una delle battute finali del film Questa casa è pulita è stata citata innumerevoli volte in prodotti addirittura impensabili come Ace Ventura, la chiappa animali. This house is clear. Come ogni horror che si rispetti, anche Poltergeist del 1982 è stato perseguitato da alcune maledizioni che hanno attanagliato il cast. A partire dalla piccola protagonista, Itero Rourke, che è morta alla soleità di 12 anni a causa di una rara malattia. Stessa sorte è toccata anche a Dominic Dunn, la quale è morta strangolata per mano del fidanzato. L'aspetto inquietante di questa maledizione derivante dalla pellicola del 1982 è dato dal fatto che le presenze sono in realtà dovute al fatto che la casa del film è costruita sopra un cimitero. La produzione per risparmiare soldi scelse di utilizzare degli scheletri veri anziché quelli realizzati in plastica. Da qui ovviamente nasce la leggenda. Ovviamente per questo remake reggere il confronto con il film del 1982 non è assai facile. Assolutamente, è un film che comunque va collocato nella sua epoca storica perché ricordiamo che il Poltergeist originale è uscito negli anni Ottanta tra l'altro si pone anche come spartiacque un po' in qualche modo perché è una delle prime pellicole ad essere un horror preadolescenziale e questo in qualche modo anche il remake del 2015 ha tentato di riproporre la stessa formula ovviamente rimaneggiandola e attualizzandola. Alla fine il risultato secondo me è molto positivo. Sì, bisogna anche dire che naturalmente quando si pongono i due film a confronto se avete visto l'originale dell'82 e in particolare lo avete visto da piccoli questo film, insomma sapete già dove va a parare, sapete già tutto quindi in qualche modo l'effetto sorpresa vi viene rovinato ma se non lo avete ancora visto questo film può apparirvi come certamente più moderno rispetto a quello degli anni Ottanta. Sicuramente un aspetto che io ho particolarmente apprezzato è il fatto che le battute, diciamo, cult della pellicola originale siano state reinserite anche in questo remake. il stanno arrivando riferito ai poltergeist e la casa è pulita che appunto citavamo poco prima. Sì, vengono rifatti in maniera un po' più tamarra però ci sono. Vabbè, si rifatti in maniera tamarra però secondo me hanno rispettato l'idea originale. Bisogna anche dire che questa volta gli scheletri non sono scheletri veri ma hanno utilizzato degli effetti digitali quindi a meno che i poltergeist non abbiano invaso i computer dei montatori di questo film il cast è al sicuro. Incrociamo le dita, non si sa mai. Beh, lo scopriremo magari fra qualche anno. Esatto, magari la povera Maddy, chi lo sa, ci lascerà anche lei. Sai che gli abbiamo appena attirato una cosa bruttissima questa ragazzina? No, in realtà gli abbiamo allungato la vita secondo me. Vabbè, lo scopriremo presto. Lo vedremo. E anche per oggi concludiamo la puntata di Ladri di sigarette. Come sempre vi ricordiamo che potete iscrivervi al canale di Spazio Games. Naturalmente se il video vi è piaciuto mettete un like e potete anche lasciarci un commento per consigliarci i prossimi film da affrontare in questa rubrica. Ciao! Ciao! Matti, cosa sta succedendo? Sì, sono venuti. Chi è? Chi è venuto?